Amici sportivi Daldino Manuzzi, un saluto da Nicolò Ceccarini e Cesena-Regina. Una sfida verità tra due squadre decise più che mai a cambiare la storia della loro stagione. Otto i punti in classifica dei bianconeri, cinque quelli di una regina al netto della penalizzazione. Questa decima giornata della Serie B-Win potrebbe già essere importante per capire le loro reali prospettive. Il signor Giancola di Vasto dice che si può cominciare. Il primo pallone viene giocato dal Cesena con un lancio subito in profondità. Avanzano ancora i giocatori del Cesena con Moreiro che va a recupero, serve Gessa. Potrebbe andare via sulla corsa di destra, attenzione alla traversione di Gessa. La palla interessante, al limite dell'area di rigore Djokovic. E poi c'è Graffiedi che effettua questa conclusione. Parte adesso il calcio d'angolo per il Cesare che ha un po' di testa. E la palla che finisce in rete, e la palla che finisce in rete. Ha segnato Comotto, ha segnato Gianluca Comotto. Eccolo qua, l'ex di turno, ha segnato Gianluca Comotto. Il colpo di testa di Comotto. Opportunità ancora per Fischnaller. Prova a girarsi, tocco ancora per Rizzato. Va a traversone, Rizzato, area di rigore. Attenzione, il tiro! La palla che finisce sul palo, Ceravolo. E poi il rischio autogol. Ancora per Di Bari. Avanza Di Bari, attenzione, il taglio ottimo. Area di rigore, opportunità. Vediamo se c'è questa conclusione che viene sciupata in questo modo dalla regina. Da Bari in là, in orizzontale. Pallone per Defrel, potrebbe caricare il sinistro. Ma adesso Defrel! Sul fondo, improvviso, sinistro. Fatto prima una finta, sembrava avesse desistito dal tentativo. E poi invece ha sparato questo bolide. Quel pallone che però viene recuperato dalla regina. C'è questo conclusione dalla distanza. E poi bravissimo, bravissimo Belardi a mettere il pallone in calcio d'angolo. Sul tiro improvviso di Parilla. Il secondo tempo, 1-0 in favore del Cesena. Ed è la regina che gioca il primo pallone della ripresa. Cerca il dribbling. Pallone sul sinistro, dentro per Gessa. Posizione regolare per Gessa che va a cercare ancora il dribbling. E pallone in area di rigore. La girata di testa! Con il pallone di pochissimo sul fondo. Bravissimo Mattia Graffiedi. 23esimo minuto di gioco. E attenzione perché viene allontanato Dionigi. C'è un cambio. Vedremo se sarà ancora per la regina. In effetti è così. Dentro, Comi. Esce Fischnaller. Di Djokovic. Pallone buono per Armellino. Armellino entra in area di rigore. Armellino con il destro! Belardi. In calcio d'angolo. Resta Ceravolo. Va altra versione Ceravolo. Molto alto questo pallone all'interno dell'area di rigore. Attenzione, opportunità con il sinistro! Di Comi sul fondo. Lascia il pallone a Ceravolo. Mette dentro questo pallone a Ceravolo. Attenzione, una mischia che si accende. Poi arriva il campo di testa! E c'è il pareggio! E c'è il pareggio della regina che però viene annullato. Il pareggio della regina con Di Bari che viene annullato dal direttore di gara. All'interno dell'area di rigore sta vedere Armellino. Sala anche Melara. Tutto è pronto la battuta. Sarno mette dentro il pallone. Attenzione, il colpo di testa! E stavolta arriva il gol! E stavolta arriva il gol! Ed è regolare. La regina pareggia con Comi! Il pareggio di Comi! La finta di Ceravolo. Il traversone. Poi Comi! Gran girata di testa. Gran girata di testa di Comi. Bravissimo. Anche lui in torsione su una spinta. Non era facilissimo. Anzi, difficilissimo. Ecco il calcio di punizione. Parte Succi. Il destro! Forse c'è stata anche la deviazione. Parte il rilancio di Baiocco. E finisce qui. Finisce qui. È 1-1 tra Cesena e Regina. Occasione persa per il Cesena. Grande reazione della Regina. Grazie a tutti.